Ciao ragazzi, sono WC3TC, andiamo qui su Flight School da Dovetil Games. Allora, facciamo un free flight. Utilizziamo sempre questo. Qualcuno mi aveva detto di utilizzare un veicolo diverso, ma insomma o questo o l'altro. Cioè, non è che ce ne sono assai. O questo o questo. O questo qui mi sembra che al suo interno abbia... Abbia... Usiamo questo. Vabbè. Ve lo faccio vedere l'altro aereo, ma non mi piace. Volevo andare a Panama. Vediamo se c'è Panama. Panama. Ok, Panama c'è sicuro. Però volevo il canale di Panama. Il canale di Panama lo trovate subito, perché comunque è quello lì. Ok, eccolo. E quello lo vedete, perché è nel punto più stretto. Facciamo da qui a qui 15 minuti, ok. Questo aereo io non lo so usare, ma va bene. Non ne so usare nessuno, quindi non è che cambia molto la questione. O qui con me, devo controllare i vari... Come si chiamano? I vari controller che sia tutto ok. Quindi lo metto un po' più avanti. Perché questo qui potrebbe avere anche il timone di coda. Regolabile. Quello è un cazzo... No, vabbè che è un doppio motore. È un doppio motore. Sapete che non lo so? No, è mono motore. Non saprei i tasti, non saprei. Questo è un problema, perché non so i tasti in questo momento. Fammi vedere. Bottoncini, fast, slow, joystick 1, 2, 3, cosa fa? 3, 4, ok, 5, 6, 8, 8 landing gear. Qual è il landing gear? Ok, l'ho scoperto. E il bottone 2. Ok, sapete cosa non c'è? Non c'è il rudder, il rudder, quello lì, come si chiama? L'elevator trim, ok, c'è solo trim, ok, perfetto, ce n'è solo uno, ma va bene così. Quindi torniamo indietro. Quindi questa cosa me la devo far vedere, perdonatemi, ma se non me la faccio vedere poi non si capisceva niente. Ok, siamo partiti già così. Abbiamo la doppia manetta. Mixer se la vede lui. Ok, questi sono i pulsantini. Perfetto. Ok, quindi noi siamo verso sud. Come si faceva ad aprire mo' quello lì? Shift F2, F3. Dobbiamo andare verso nord. Quindi partiamo e poi giriamo. Ok, andiamo. Vai così, vai così. Questa è la prima volta che lo prendo. Quindi, perdonatemi, faccio qualche stronzata. Ok, portone al massimo. L'aerio tira tantissimo a destra, tira, eh. 60, potrei già alzarmi. 75 mi alzo, vai. Uh, però questa zona è molto bella, eh. Questa zona è molto bella. Tira sul carrello. Tira sul carrello. Me lo tira su. Ha detto il pulsante 8. Scusami, non mi tira sul carrello con la G. Ma si tira su sto cazzo di carrello. Fermati un attimo. Che cos'è questo pulsante qua? Oh, non mi tirava su il carrello, non mi tirava. Mi ha detto che è il pulsante 8. Questo qui è un carrello che si gira. Ah, no, questo carrello non si tira su. Ok. Facciamo che, eh, restartiamo. Dovevo vedere. Mi sembrava si chiudesse questo carrello. E mi diceva il pulsante 8. Il pulsante 8 è quello, eh. Va bene, non avete visto niente. Ah, ciao ragazzacci. Siamo qui, ah, come bello. Facciamo Panama. Cazze varie. No, e mi sembrava fosse un carrello di quelli che si flattesse all'interno. Invece no. È solo fatto in modo tale da avere meno resistenza aerodinamica. Ma non si chiude. Questo cos'è? Me lo dici cos'è? Non me lo dice, guarda. Flaps, questo? Parking brake? No, allora non c'è, eh. Pensavo tantissimo che ci fosse invece sti cazzi. Partiamo subito. Subito a manetta, subito a manetta. Qui dov'è il coso del motore? Non lo vedo. Ok, l'ho visto adesso. 70, 75. Ok, saliamo. Ok, stiamo salendo. Saliamo, non tantissimo, ti prego. Ok, saliamo così. Abbassiamo un po'. No, è per me così non vedo un cazzo, non vedo. Ok, abbassiamolo. Facciamo questa curva. Cosa sto combinando? Cosa sto combinando? Sali? Ti prego, sali? Sali, non ti emozionare. Non ti emozionare. Stai tranquillo. Stai tranquillo, stai tranquillo. Sto abbassando un po' il musetto col trim. No, è che con sto cazzo di joystick non vedo una minchia, non vedo. Cioè, c'è il controller davanti, io non vedo niente. Continuo a girare, continuo a girare. Questa zona è molto bellina, eh. Si vede che qui è un paradiso fiscale. Un sacco di soldi, un sacco. Ok, aspetta un attimo. Ok, ho perso il motore, ho perso. No, è che questo coso qui davanti si può chiudere, cancellare questa cosa? Non vedo niente, non vedo. Vabbè, non vedo niente, chi se ne frega. Noi dobbiamo girare e andare a nord. Chissà dov'è il coso. Il canaletto qua. Io non vedo nessun canale. Sapete che non vedo nessun canale io? Ok, gira di qua, arriviamo sempre a 1.500. Io canali non ne vedo. Dovrebbe essere qui sulla sinistra. Ah, sì, eccolo, eccolo. Quello è la... Uh, com'è bello. Guardate un attimo che allungo un po', ma lo devo vedere quello lì. Molto bello. Potremmo girare subito a destra. Cazzolina. Guarda com'è bello. Qui come va il motore, ok. Io non vedo il motore, quindi non so quanti giri siamo. Mi piace questa cosa. Non c'è un altro controller? No, non mi dico niente, tu lo sai. Ma ti preoccupati di un cazzo. Ok, questa qui la diga. In pratica, come funziona? Funziona che vi prende... Per l'altro ho messo la faccia al centro. Per questa puntata va bene, poi ci sto facendo ancora delle prove. Vi prende, vi fa entrare, poi carica d'acqua e vi alza e vi porta avanti. Molto figa sta cosa. Abbassiamo un po', abbassiamo un po', abbassiamo un po'. Ti prego, abbassa un altro pochino. Non riesco ad abbassare il musetto di questo motore. Ok, giriamo verso sud di nuovo. Uh, guardate qui che opera immensa, che opera immensa, che è la diga di Panama. Che poi non si sa come cazzo hanno fatto a farla. Cioè, chi l'ha pagata? Bella, bella. Comunque collega tutto il mondo, collega. Cioè, voi potete immaginare quanto è bella la diga di Panama. Oh, il motore qui non riesco a tenerlo dritto. Seguita meglio l'altro, seguita. Ok, così. Mo' è dritto. Guardate com'è bello. Bella sta zona. Non penso sia fatta proprio così, però... Già che c'è qualcosa mi piace. Cioè, il solo fatto che c'è... Mi va più che bene. Non vedo... Cioè, proprio la posizione di merda l'hanno messo quell'RPM. Vedete qua dov'è? È questo, ma è una posizione del cazzo proprio. Cioè, altro largo da metterlo? Cioè, quello lì, secondo me, è più importante del... Di qualcosa, insomma, però... Le luci le ho accese. Sapete che non so se ho acceso le luci? Accendiamola adesso. Eh, 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 senza luci. Via le luci. Però così si vede giallo. Che è sto giallo? Guardiamolo da fuori. Luci, non luci. No, no, le luci no. Guardate che bella sta zona. Almeno c'è qualche struttura, dai. Non mi piace questa cosa. Scendi ancora. Guarda che non riesco a tenerlo giusto aereo. Non riesco a tenerlo in linea retta. Dovrebbe andare un pelino, pelino. Sono senza luci, lo so, però non mi piace l'effetto che fa. Dovrebbe andare un pelino, lino, 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 più forte dell'altro, eh. Ma sapete che vuol dire proprio sciocchezzuole? Ok, continuiamo così e facciamoci la nostra strada. Ok, qua devo girare. Mi basta solo seguire il coso. Mi basta solo seguire il corso di Panama. Sale tantissimo. Questo aereo tende a salire all'infinito. Non so perché, non so. Ok, perfetto. Quindi questa cosa c'è. Allora, io qua potrei anche settare. Sì, ciao. No, invece si può settare. Ok, però conoscendo la giusta... Vediamo se lo riusciamo a trovare qua. Questa cosa ogni volta mi fa esaurire. Waypoints. Waypoints, waypoints. Qua me lo dice che piste sono. 36, 18, ok. No, non è questo che mi interessava. Quindi non è questo. Nearest. Ok, questo vuol dire vicino. NDB vicini. Ma, eh... AT, AT, TB. Come faccio a capirlo io? Ma vaffanculo, va. Questa cosa fa proprio cagare, fa. Cioè, invece di fare una cagata del genere. Non lo fate per niente, no? Ok, faccio una piccola curva per seguire la rotta. Guardate qui com'è bello, intanto. I paesaggi mi piacciono di più di quelli di Fred Simulator X. Però non è... Si potevano impegnare ancora di più, eh. Ma d'altronde costa 19 euro, cazzo volete. Questo poi è un gioco che ve l'ho già spiegato. È una prova su quello che uscirà l'anno prossimo, credo. Ok. Intanto io sto guardando nell'altro schermo per vedere se sta registrando. Perché a volte io incomincio a parlare ma mi dimentico di registrare. Eh, non è bello, non è bello. Perché dopo che lo fai una volta, dopo che lo fai due, dopo che lo fai tre, poi ti incazzi. Incominci a incazzarti. Dice, ok, porca di quella troia. Comunque l'aereo non mi piace. Guardate qua, questa cosa qui non mi piace. Che so queste cose qua? Tipo i dentini. L'ombra non è perfetta. Tienilo un po' su, tienilo su. Ti prego, tienilo un po' su. La velocità è più elevata e mi piace questa cosa. Rispetto all'altro è più veloce questo. Qui che faccio? Vado dritto? Sì, dai, vado dritto. Però si dovrebbe collegare in qualche modo, eh. Comunque questa cosa qui dovrebbe portarti da un oceano all'altro. Cioè, è perfetto un po' che bella l'opera di Panama. Costruita, peraltro, anni e anni fa. Mi sa dopo la Seconda Guerra Mondiale. O era Suarez. Canale di Suarez, sì. Canale di Suarez. Che il canale di Suarez è famoso per aver morso il Chiellini. Lasciamo perdere. E il canale di Suez. Che collega il Mediterraneo. Con l'oceano indiano? Dovrebbe essere l'oceano indiano. Sapete che poi a memoria faccio schifo. Questo qui collega i due oceani tra Atlantico e Pacifico. È molto carino sta cosa. Cioè, molto utile. Soprattutto per le navi. E ho visto, se voi cercate su YouTube, ve lo consiglio sempre. Su YouTube, Wikipedia e Google. Sono i vostri amici, cioè, proprio più stretti. Avete la possibilità di vedere anche tipo, scrivete Panama container. Container Panama. Vi fa vedere proprio le navi container che passano. Si vede che in pratica la nave entra. Mi chiudono la sbarrettina dietro. Riempie d'acqua. Quindi la nave si alza. La portano avanti perché sono dislivellati le cose. Ma molto carina, molto carina sta cosa. Intanto io non so se devo continuare dritto. Sì, continuo dritto. Dai, non faccio nessuna curva. Solo un pochino a destra. Muovo il joystick. Perfetto. Quindi qua è tutto a posto. Vediamo se riusciamo a capire cos'è. Questo cosa serve? Carburetor. Vabbè, non tocchiamo niente. Ah, posso scendere lì pure io. Allora, landing no. Fu il pump. I beacon, sì. Questo cos'è? Pilot heat switch. Pitot. No, il pitone lo voglio. Quello il tubo di pitone non lo devo riscaldare. Dove riscaldare niente io. Ok, andiamo così. Mettiamoci un po' il paesaggio. Il paesaggio buono, buono. Ok, mi piace il paesaggio. Ok, lo vedi qua com'è bello. Qua non capisco cos'è sto colore dell'acqua. Che si è sporcato. Vabbè, si è sporcato. Perfetto. Guardiamoci da fuori anche, visto che ci siamo. Molto carino, eh. Mi riesco a guardarlo? Sì, se muovo la testa muovo il visuale. Vedete qua. Figo, 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 figo. Ok. Torniamo dentro, dai, non facciamo queste cagate. Ok, perfetto. Fammi vedere quanto manca la nostra... 8 minuti siamo un po' spostati. Noi dobbiamo andare verso MPEG. MPEG c'è scritto tipo. MPEG. Ok. Poi, com'è che si faceva? Ho sbagliato. Com'è che si fa? Ok, di qua. Vediamo se mi fa vedere. NDBAT. Panama City. Non mi interessa. Madden. Ok. Ground, Tower. Ah, questo qui è MPJ. Che cavolo mi serve a me MPJ? Public. Cioè, non me ne faccio niente. Mi interessava l'altro. Cioè, a me non mi interessa questo qui. Mi interessa MP, PEG, là. Ah, e come faccio a prenderlo? Oh, diventeremo matti questo coso? Neanche ve lo immaginate. MPEG. MPEG. MPEG non c'è niente. Near East War. No, Panama City. Intanto suonano le campare. Maledizione la domenica. Non puoi fare un cazzo. Non puoi fare. Tower. Ok. VOR. Runway 1700. Sì, ma come faccio a... Vediamo se faccio Enter. E poi premo questo qui. No. C'è un modo per procedi? No, Select Approach. Facciamo Select Approach. VOR 18. VOR DME 18. 36. Facciamo 36. Ok. Enter. Vector. Sì, vectorizzami. Load or Activate. Sì, attiva. Come si fa ad attivare? Non me lo dice, però, come si fa ad attivare. Andiamo di nuovo sul root. Dovrei forse arrivare di qua? Non mi fa capire un cazzo. Non mi fa capire. Fai out? Ti premo. Ok. Dovrei arrivare di là, tipo. Dice, quella è la pista. Va bene. Stavo dici tu. Sto andando un po' a sinistra. Quindi premiamolo sempre. Perché l'elica girando vi porta un po' a sinistra. Non riesco a capirlo proprio. Questo cosa serve? Il cursore on off. Ah, utile questa cosa. Ops. No. Così. Questo non so cosa vuol dire. Allora, ritorniamo lì sul approach. Activate vector to final. No. Activate approach. Sì. Ok, devo arrivare di qua e scendere. Chi lo capisce sto cosa? Fa proprio schifo, eh. Fai in. Ok. Arriviamo dall'altra parte. Andato, guardiamoci un po'. Le cose sono fatte zig zag. Non si è mai visto nella vita reale. Una cosa zig zag. Stai lì com'è? Che non l'abbiamo guardato per niente. Peraltro per muoverle la testa. Guarda qui. Ah, è un quattro posti più bauletto. Questo è più grande dell'altro allora. L'altro se non sbaglio è un due posticini. Qua non si apreva niente. Fammi vedere. Qui sul tetto c'è qualcosa? Cos'è sto cosa? Non vedo niente, guarda. Qua posso aprirmi le alette? No. Peccato che le alette non si aprono. È sempre quel tocco di realismo che manca. Ok. Quindi andiamo così. Finché non intercettiamo questa cosa qui. E poi ci buttiamo dentro. Mi piace, mi piace. Peraltro mi piacerebbe anche sapere che VOR devo mettere. 36, aveva detto. Quindi 360. Ok. Ma se non mi dici il numero del VOR. Faccio anche fatica. Vediamo se me lo dice qua a qualche parte. Vector 36. Eh, se non mi dici il VOR. CT cos'è? 118.50. E chi lo sa? VOR. Lo vedi che c'è scritto VOR? Enric Andolfo Jimenez. Forse è il calciatore? Gli hanno dedicato un coso al calciatore? Sembra strano. Ah, il VOR è questo. 117.10. Grazissimo. Grazissimo. Sei proprio gentilissimo. VOR. C'è scritto qualche parte, no? Vabbè. 117.10. Proviamo a mettere sto coso. Quindi chiudi questo, dammi questo. 117.10. Nav. Questo devo cambiare. 117.10. Fai. Gira. Ok. Ok. Vedete qua che è cambiato il coso. Quindi c'è un approccio. Sì. No, aspetta. Fammi vedere. Deve andare così. Vedete questo qui che è cambiato? Quando ho messo 117.10 qua in nav. Va bene, va bene. Questo cos'è invece? 4 e 5. 4 e 5. Questo è il 5. Non so cos'è il 5. Perché ne ho 2? Questo cos'è? Nav. E questo cos'è? Proviamo a cambiare anche questo. Allora, prendiamo il 5. Mette 117.10. Attivalo. Ok. Vedete qua. Anche il secondo è entrato. Perfetto. Perfetto. Cari ragazzi. Ci stiamo per atterrare. Ok. Guardiamoci per l'ultima volta qui. Il canale di Panama. Poi di qua si esce. Di Panama. No, di Panav. Io potrei intanto iniziare a girare da quella parte. Poco eh. Non tanto. Però un po' devo iniziare a girare. Controlliamo sempre l'altezza. Guardate qui. La quota è perfetta. Il 1.5. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio. Ma non fa niente. Non fa niente. Guardiamo un po' dove è. Dovrebbe essere questo. Mi sembra che sia questo eh. Adesso non vi voglio dire niente. Ma mi sembra sia quello. Peraltro alcune volte io sbaglio col Papi. Approach. Vaffanculo. Non me lo ricordo mai. Approach. Boh. Non mi ricordo. Papi vuol dire. P-A-P-B. Non me lo ricordo più. Comunque è Approach. È un sistema per l'Approach. Sbaglio a dire se le luci devono essere due bianche. Due rosse. Se uno è rossa vuol dire che se è basso o se è alto. Una cosa del genere. Sti gran cazzi. Sti gran cazzi. Insomma. Ok. Giro di qua. Non mi sta dando però la giusta frequenza eh. L'aeroporto è quello. Ne sono sicuro. I flaps. Dove si attivano? Ok. Ancora è presto per attivare i flaps. Poi più l'anno attiveremo. Dovrebbe dirmi anche la distanza. Ma non me la dice. La loro cazzo ma sta dicendo. Perché era un VOR DME. Ma io distanza non ne vedo. Fa molto piacere eh. Ok. Quindi giriamo di qua. Incominciamo a togliere un po' di manetta. Così iniziamo a scendere a un 2-300. I piedi dai. Così mi piace. Guarda. Guarda che stiamo scendendo bene. Stiamo scendendo. Dai un colpettino verso l'alto. Per non scendere troppo. Guarda qui. Questa qui tutta zona commerciale. Qui è un pari di su fiscale. Panama. Tutti i ricchi c'è i soldi a Panama. Ok. Vai così. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Dobbiamo solo. Questo qui è la nostra pista. Ok. Non ho capito che cazzo mi serve qualcosa però. Mi va molto bene. Mi va. A meno che questo aereo non abbia l'apparato Vordi e me. Mi sa che non ce l'ha. Perché non vedo la cosa. Ok. Ok. Poi. Per attivare i flaps mi sembra che siano questi due pulsanti. Non me lo ricordo mai. Poi ci guardiamo. Ok. Le rallentiamo. Poi perché qui hanno un sacco di... Di... Come si chiama? Perché qui hanno un sacco di... Di aeroporti. Perché qui vengono i ricchi a portare i soldi. Vengono con i jet privati. Sto alzando il musetto e togliendo manetta perché voglio rallentare un po' per fare una cosa particolare. Aprire i flaps. Togli ancora manetta gentilmente. Togli ancora manetta. Togli ancora manetta e sali. Togli e sali. Togli e sali. Dobbiamo quasi installarlo. Quasi ho detto. Non installate mai aerei. Possiamo aprire la prima metà di flaps. Come si fa? Ok. Mezzo flaps aperto. Quindi ci aiuta un po'. Sì. Ci aiuta un po'. Togliamo ancora velocità. Ok. E quello è quello. Mettiamo il secondo. Ok. Secondo flaps messo. Ce n'è un altro? Ce n'è un altro. Guarda. Quanto cazzo ce n'è di flaps? Ok. Abbiamo messo i flaps per l'atterraggio. Diamo un po' più di manetta. Diamo manetta perché stiamo scendendo pericolosamente verso i 60. Siamo ancora lontanini eh. Così piano piano. Piano piano ce la possiamo fare. Uh. No. Aspetta. Qui non ci sono le lucine. Qui vai a culo vai. Pratica qui se vuoi atterrare. Atterri se ti piace. Se no. Olla. Ti prego. Ti prego. Prendiamola. Rallentiamo di tanto. Rallentiamo tanto. Non tanto. Rallentiamo però. Quasi a stallarlo. Non è vero che devi stallare. Però più sei dedicato sull'aereo meglio è. Vedi qua. Sto dando un po' più di gas adesso. Per arrivare. Quasi devo solvorarla e baciarla. Non devo avere 500. 500 è un po' troppo. Devi avere proprio. arrivare dritto. Vedi qua. Come sono arrivato lunghino. Però. Ce l'ho fatta. Guarda. Guarda. L'atterraggio è stato perfetto. Un po' ho sbagliato all'inizio. Però. Ma già bene. Quindi. Togliamo i flaps. Ok. Parcheggiamo qui. Frii sto cazzo di cosa. Ok. Lo metto qui eh. Non vi preoccupate di niente. Come si fa a spegnere il motore? Con controllo eh. Ok. Basta togliere questo. Ok. Sei spento. Perfetto. Ok. Vedete qua che bello. Noi siamo atterrati. Ci vediamo nella prossima puntata. Sempre qui su. Dove te hai il flight school. Ciao.